Per il design italiano è una consuetudine ormai parlare di restauro del contemporaneo. Ci sono discipline in giro per il mondo che si affacciano adesso al design e noi già stiamo restaurando la nostra storia con tutti i problemi. Restaurare il contemporaneo è disciplina tutta da costruire ancora in funzione dei nuovi materiali, le gomme piume, gli schiumati, le plastiche che hanno bisogno di un'attenzione, di uno studio estremamente attento, tutto da costruire. Questo per quanto riguarda i materiali e per quanto riguarda la struttura portante dell'oggetto. C'è un altro argomento però che riguarda la correttezza, la rispondenza di questi oggetti che sono d'uso industriale che nel tempo si modificano e quindi intervenire su questi oggetti nel massimo rispetto di quelle che erano le strutture e le tecnologie precedenti ma guardando anche le funzionalità attuali. È un difficile bilico da trovare rispetto alla conservazione del patrimonio artistico e rispetto alle garanzie che dobbiamo dare, bisogna saper dare al mercato ormai estremamente diffuso del vintage.